tamponi nelle scuole grande adesione da parte degli studenti iscrizioni alle superiori continua la crescita dei licei città cantiere altri lavori in vista per il cavalca ferrovia nuove aperture a pesaro ecco lo yamaha store buona serata benvenuti su rossini tv apriamo il nostro telegiornale con l'operazione scuole sicure è infatti partito questa mattina lo screening voluto dal comune di pesaro rivolto agli studenti delle scuole superiori della città vediamo come è andata la prima di queste quattro giornate in questo primo servizio di daniele sacchi ci troviamo nella palestra del liceo marconi di pesaro uno dei quattro luoghi deputati a questa nuova operazione dello screening di massa tra gli studenti delle scuole superiori che è partita proprio questa mattina sono a circa le 9.30 si è cominciato dalle 8.30 a tamponare gli studenti delle scuole superiori a sottoporre appunto a questo test di prevenzione medica importantissimo caldeggiato dal comune di pesaro come vedete alle mie spalle la partecipazione è davvero massiccia qui in questo luogo vengono convogliati tutti gli studenti del campus scolastico così come al liceo artistico mengaroni vanno a sottoporsi a test medico quelli delle scuole del centro storico allo stesso modo si sottopongono al test gli studenti dell'agrario Cecchi e da domani si comincia anche all'alberghiero Santa Marta due giornate poi ce ne saranno altre due di test il 2 e il 3 febbraio proprio perché siamo in una fase di didattica in presenza al 50% dunque gli studenti che sono in presenza questa settimana si sottopongono al test in queste due giornate gli altri lo faranno nelle prossime due giornate del 2 e 3 febbraio credo così ad occhio che l'oltre l'80% degli studenti stia partecipando a questo monitoraggio essenziale per ricominciare la scuola in garanzia e in sicurezza lei anche giorni fa l'aveva caldeggiato vivamente c'è stata anche un'operazione di persuasione diciamo verso gli studenti sì sì ho incontrato i rappresentanti di classe in assemblea chi in presenza chi a distanza ho caldeggiato l'iniziativa perché è importante è importante per noi è importante per tutta la popolazione scolastic ma soprattutto è importante per quella fascia di età che hanno i ragazzi a casa che sono i loro padri i loro nonni anche perché è quasi una statistica medica gli asintomatici si trovano soprattutto in questa fascia d'età assolutamente sì gli asintomatici sono prevalentemente dai 6 ai 15-16 anni è in quella fascia che possono contrarre il virus se non avere alcun sintomo ed è opportuno trovarli perché possono contagiare altre persone beh devo dire che noi come consiglieri di minoranza ormai da diversi mesi stiamo sollecitando la regione Marche affinché appunto si faccia uno screening a tappeto di tutti gli studenti e ovviamente anche del personale scolastico questa scelta non è stata ancora fatta noi continueremo a sollecitarla perché riteniamo che se da una parte è importantissimo il rientro in presenza almeno in questo caso al 50% perché devo dire che i dati stanno dicendo che c'è aumentata la dispersione scolastica i ragazzi fanno difficoltà a seguire la scuola deve essere una priorità un luogo di crescita culturale un luogo di formazione ma anche un luogo di socializzazione appunto però abbiamo sempre detto che se da una parte siamo favorevoli al rientro questo rientro deve essere fatto in sicurezza ci troviamo alla palestra dell'istituto Agrario Cecchi uno dei quattro luoghi appunto deputato a questi test e ricordiamo che in questa operazione sono circa 8.500 gli studenti potenzialmente sottoponibili al test del tampone ma anche 1.100 docenti e personale ATA ero pronta al fastidio, ero preparata, l'avevo già fatto a settembre all'epoca del primo screening e quindi veramente nessun problema forse per i ragazzi è una prova che può essere più reputata, più fastidiosa che per noi adulti probabilmente per quanto riguarda l'utilità assolutamente credo che sia un dovere civico cioè quantomeno essere sicuri di non portare il virus inconsapevolmente cioè di non essere appunto asintomatici positivi quindi io voglio essere tranquilla quando entro in classe Oggi noi abbiamo 30 classi ovviamente con il dimezzamento al 50% di queste 30 classi c'è stata una risposta mi stavano dicendo circa l'85% Siamo soddisfatti per il grande lavoro che hanno fatto dirigenti, professori e gli stessi studenti quindi diciamo a parte che è stata una richiesta che è arrivata da loro perché i rappresentanti di istituto ci hanno chiesto fra le tante misure per ritornare in classe quello dello screening di massa ricordo che diciamo noi aspettiamo tutti il vaccino ma il vaccino sotto i 16 anni non verrà fatto quindi avere tracciato con uno screening la popolazione studentesca è sicuramente importante è importante per loro, è importante per i compagni di classe ma anche per le persone più grandi che sono a casa si parla di 367 classi, 8.500 studenti 1.100 il personale ATA un'adesione molto alta, siamo molto soddisfatti per il grande senso civico, il grande senso di responsabilità che ha investito questi ragazzi E mentre il comune di Pesaro ha avviato lo screening nelle scuole la regione continua invece il suo screening di massa cominciato a dicembre e che continua nei paesi più piccoli in provincia si stanno infatti effettuando in questi giorni tamponi rapidi, gratuiti e volontari a Pergola, Cagli, Fermignano, Urbania, Fossombrone e Mercatello sul Metauro paesi in cui ieri hanno aderito 1.431 persone rilevando 5 casi positivi complessivamente dall'inizio del programma Marche Sicure si sono sottoposte a tampone 229.087 persone e sono stati riscontrati 1.203 casi positivi con una percentuale di positività pari allo 0,5% Resta invece stabile la crescita di contagi secondo il report giornaliero del Servizio Sanitario Regionale che ha rilevato 429 nuovi casi positivi su 2.832 nuove diagnosi per un totale di 4.886 tamponi testati I nuovi contagi in provincia di Pesaro Urbino sono stati 86 mentre purtroppo in tutta la regione Marche si sono registrati 15 decessi di persone contagiate da Covid-19 E continuiamo a parlare di scuola perché si sono completate le procedure di iscrizione agli istituti superiori per l'anno didattico 2021-2022 A livello nazionale si conferma la crescita di iscrizioni nei licei ed è una tendenza che Pesaro non smentisce La tendenza nazionale dice che il 58% dei ragazzi italiani che dalla scuola media sceglie un istituto superiore sceglie un liceo Il 30% si orienta su un istituto tecnico il 12% su un istituto professionale Questa la fotografia del Ministero dell'Istruzione dopo la conclusione delle iscrizioni online all'anno didattico 2021-2022 Una tendenza che Pesaro non smentisce raggiungendo un picco nel liceo scientifico Marconi che continua ad essere la scuola cittadina che cresce di più 409 iscritti in un anno Basti dire che fino a 5 anni fa cresceva di circa 100 unità in meno Devo dire sì, effettivamente la nostra crescita è una crescita lineare evidentemente è una scuola che ha un gradimento ma soprattutto non tanto territoriale ma d'ampio respiro perché i nostri studenti arrivano dalla Romagna dall'Umbria dall'Anconetano addirittura quindi va bene così Continua il gradimento anche per il liceo artistico Mengaroni aumentato di quasi il 60% nell'ultimo quinquennio ma anche per il Bramante Genga che registra 170 nuovi iscritti Stabili i numeri del liceo Mamiani così come quello dell'Aggarario Cecchi che incassa regolarmente 200 iscritti all'anno Diciamo l'andamento degli anni precedenti quindi anche quest'anno penso di fare le mie 10 classi come gli anni precedenti anzi ho avuto però un lieve calo nel professionale ma stanno già arrivando altre richieste da parte delle famiglie che non sono riuscita a iscriversi faremo l'iscrizione manuale, cartacea al tecnico invece abbiamo avuto un incremento di circa 15 studenti per un totale di 198 iscritti Sono invece in calo i numeri degli istituti professionali sono sotto i 100 iscritti all'alberghiero Santa Marta sono 50 iscritti in meno rispetto a un anno fa all'Ipsia Benelli Ed ora passiamo alla cronaca e ci occupiamo di violenza di genere i carabinieri di Pesaro hanno arrestato ieri un uomo che da anni si rendeva protagonista di botte, abusi e umiliazioni nei confronti della moglie originaria del sud-est asiatico donna che alla mezzanotte di sabato si è presentata alla caserma dei carabinieri denunciando di essere stata picchiata dal marito e mostrando i segni visibili delle percosse Le indagini dei carabinieri nei giorni seguenti hanno scoperchiato anni di vessazioni che andavano dai maltrattamenti all'impedimento nel vedere i figli e un nipotino neonato fino alla privazione dello smartphone per chiamare soccorsi dopo le percosse Raccolta la testimonianza i carabinieri hanno offerto un rifugio alla donna e avviato indagini che dopo pochi giorni hanno raccolto elementi tali da arrestare il marito sottoponendolo a custodia cautelare nel carcere di Villa Fastigi E' morto contagiato da Covid-19 Guglielmo Fazzi, detto Mino storico titolare del negozio Fazzi Arreda sulla statale adriatica Aveva 89 anni e 40 anni fa fu il primo in tutta Italia ad aprire un negozio monomarca di cucine Scavolini Appassionato dirigente sportivo è stato per più di 30 anni presidente della squadra di calcio dilettantistica di Pozzo che oggi si chiama Atletico River Urbinelli I funerali si terranno mercoledì nella chiesa di Pozzo Alto E' invece morto per un'aritmia cardiaca fulminea Andrea Bindi personal trainer 48enne trovato senza vita domenica nella sua casa di Ronco Sambaccio Questo quanto accertato dall'esito dell'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica che ha evidenziato una patologia cardiaca alla base del decesso Candidarsi a capitale della cultura è diventato un caso politico interno alla Regione L'assessore alla cultura del Comune di Pesaro Daniele Vimini così come i consiglieri regionali Andrea Biancani e Micaela Vitri hanno sollevato perplessità su una possibile disparità di trattamento tra Pesaro e Ascoli da parte della Regione Marche che ieri ha espresso ufficiale sostegno alla candidatura di Ascoli Piceno a capitale della cultura per il 2024 non facendo invece alcun cenno all'analoga candidatura che Pesaro aveva avanzato qualche giorno prima Dall'assessore regionale Giorgia Latini è arrivata la smentita che esista alcuna insinuazione di ostacolo alla candidatura pesarese Semplicemente, secondo l'assessore, Pesaro non avrebbe avanzato nessuna comunicazione ufficiale alla Regione a differenza della formale delibera inoltrata da Ascoli È ormai dalla primavera scorsa che il cavalcaferrovia di Pesaro si è ridotto ad una sola corsia per ogni senso di marcia Tempi ancora lunghi per il ripristino della circolazione originale sul ponte ma intanto a febbraio sono previsti altri cantieri come ci spiega l'assessore all'operatività Enzo Belloni Allora in questo step noi interverremo sul lato Parco Miralfiori sulle arcate a ridosso del parcheggio di Porta Capucina per capirci tant'è che qualche giorno fa abbiamo fatto un sopralluogo con la ditta per garantire le entrate e le uscite delle auto parcheggiate sul parcheggio di fianco al parco è una piccola parte dell'intervento, un primo stralcio anche se noi a bilancio abbiamo già 380 mila euro finanziati e stanziati già dal 2019 quindi proglie ad andare in gara Abbiamo aspettato un attimo perché stiamo partecipando a un bando del Ministero degli Interni e abbiamo individuato il cavalcaferrovia proprio come zona di intervento e nel giro di qualche settimana ci dicono dovremo capire se questo bando ce lo siamo aggiudicati o meno a quel punto valuteremo se destinare i 380 mila euro che abbiamo già a bilancio al ponte del cavalcaferrovia oppure girarli ad un'altra struttura pubblica e questo lo potremo fare se appunto il bando del Ministero degli Interni ci darà le risorse necessarie per completare il lavoro Il ponte è un ponte che ha 50 anni ed è un ponte degli anni 70 per il quale noi abbiamo fatto delle indagini statiche, strutturali importanti non ci siamo fermati all'occhio a guardare come era la situazione e i tecnici ci hanno detto che il ponte andava in qualche modo rivisto soprattutto per l'aspetto dei guardrail per questo abbiamo ridotto le carreggiate da 4 a 2 e il lavoro che andremo a fare da metà febbraio appunto è quello di risistemazione dei cordoni e dei guardrail una volta terminato un lato il ponte ritornerà a 3 corsie quando termineremo anche all'altro lato ritornerà ad avere le 4 corsie di marcia sarà un intervento importante non causerà particolari criticità alla circolazione perché comunque la circolazione dei veicoli è comunque garantita è un grande segnale dal punto di vista della sicurezza dove appunto l'amministrazione finora ha investito cifre del suo bilancio importanti qualora arrivassero le risorse del ministero dell'interno è ancora meglio perché le cifre che abbiamo a bilancio ripeto le potremo destinare ad altri interventi Ed ora ci spostiamo a Fanno dove questa mattina l'amministrazione comunale ha tracciato un ultimo bilancio delle iniziative messe in campo durante le festività natalizie contestualmente ha lanciato due nuovi progetti a sostegno delle attività commerciali della città vediamo il servizio di Simone Celli numeri, dati, cifre ogni report che si rispetti di solito comincia da qui ma nell'anno in cui tutto è cambiato deve per forza cambiare anche il modo di analizzare gli eventi ed è per questo che il comune di Fanno ha voluto per un attimo voltarsi indietro e concedere un ultimo sguardo alle recenti festività natalizie ma senza pensare ai numeri, ai dati, alle cifre lo ha fatto attraverso un video speciale capace di fotografare tutto il carico emotivo del momento e di esprimere una certa voglia di speranza verso quello che verrà un video finale diverso dal solito quest'anno sì, quest'anno abbiamo voluto costruire una sorta di mini documento non mini perché rappresenta tante realtà, tante cose, tante situazioni tanti eventi che si sono costruiti in città durante questo periodo natalizio ma non solo perché questo è un documento che vuole restare nel tempo un documento che vuole rappresentare il momento difficile di questa città ma che si rispecchia in una realtà che poi è globale quindi abbiamo costruito questo video facendo vedere una parte della nostra città gli eventi che sono stati costruiti e prodotti durante questo periodo natalizio quindi in un video emozionale che desse un'emozione che portasse anche un messaggio quello di essere insieme, di progettare, di andare avanti, di essere forti, di essere una comunità la città di Fano è una città che nei momenti di difficoltà ha veramente un carattere particolare cerca di emergere sempre con sinergia lo ha fatto veramente in questo periodo il Natale che ha voluto così con le sue luci lanciare questo messaggio di speranza è stato soprattutto un momento dove tutti si sono uniti hanno voluto guardare alla speranza nel futuro e quindi associazioni culturali, associazioni dello spettacolo, attività economiche quindi veramente un'unione proattiva nei confronti del momento il passato è passato però per questo il comune di Fano guarda già avanti e lancia due nuove iniziative tra cui un vero e proprio contest multimediale attraverso Facebook e Instagram da lunedì 1 febbraio a domenica 4 aprile sarà infatti possibile pubblicare foto e video di tipicità fanesi non più lunghi di 59 secondi accompagnato dagli hashtag Racconta Fano e Visit Fano saranno il numero di like, commenti, condivisioni e tag a decretare i 15 vincitori uno è un progetto digitale, si chiamerà Racconta Fano quindi la possibilità per tutte le persone che lo vorranno di inserire nelle foto dei social foto con prodotti tipici locali, con prodotti enogastronomici foto con le attività economiche insomma vogliamo dare quella sensazione, quella necessità di comprare fanesi ancora in questi mesi e di dare una mano alle nostre attività economiche inoltre riallestiremo la città lo faremo dal 10 febbraio fino a Pasqua con alcune zone della città creando una sorta di cielo stellato quindi crediamo che questo più la filodiffusione che sarà attiva fino a febbraio ci daranno almeno quella sensazione di voler credere nel futuro ovviamente come amministrazione non ci fermeremo qui stiamo facendo comunque, continuando a fare anche con il tavolo economico, una serie di incontri per capire come fisicamente aiutare le attività economiche in questo periodo ecco però crediamo che anche un messaggio di questo tipo in questo momento sia veramente importante per non demoralizzarci e comunque lavorare insieme aiutare le persone più deboli cercare di sostenerci con una grande sinergia appunto insieme insomma per il futuro in queste settimane ci siamo occupati spesso di crisi del commercio ma ci sono invece alcune nuove attività che alzano la saracinesca una di queste è lo Yamaha Store che ha aperto da pochi giorni sull'Interquartieri diventando il nuovo concessionario della provincia di Pesaro Urbino per il noto brand motoristico giapponese nuove attività commerciali che aprono a Pesaro nella terra dei piloti e dei motori ecco il nuovo Yamaha Store il concessionario ufficiale della provincia di Pesaro Urbino per il brand Yamaha si trova ora nell'Interquartieri in via Sandro Pertini dove c'è questo nuovo spazio espositivo davvero ampio di circa 1000 metri quadrati in cui gli appassionati di moto e di Yamaha possono davvero sbizzarrirsi noi siamo un gruppo di NG Motorsport che ha voluto aprire la nuova sede qui a Pesaro perché Pesaro è terra di motori quindi abbiamo aperto il nuovo store Yamaha ufficiale dove troveremo tanti modelli della gamma Yamaha spazia dall'enduro agli urban mobility gli scooter al T-Max conosciuto T-Max al nuovo T7 a breve arriveranno varie novità 2021 poi abbiamo un angolo dedicato all'abbigliamento e abbiamo anche tanti usati avendo un gruppo che parte da Carpi a Rimini e anche qua a Pesaro adesso e quindi abbiamo un vasto assortimento di usato moto poi abbiamo un'officina un'officina molto attrezzata completamente nuova all'avanguardia e sono tanti clienti affezionati alcuni molto riconoscibili so che Vasco Rossi è ad esempio uno dei vostri appassionati clienti Sì, Vasco è un nostro cliente abbiamo fatto per lui delle moto molto particolari esemplari unici una su base XSR900 una su base Tracer e quindi siamo felici che ci serva nel gruppo di NG Motorsport e come ben sapete il giovedì sera su Rossini TV è dedicato al basket infatti questa sera alle 21.15 torna una nuova puntata di Insieme a Canestro il nostro approfondimento sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ospiti di questa sera Gerald Robinson che è la guardia VL Matteo Maggi team manager VL e poi ci sarà Enzo Belloni in questo caso in versione di allenatore del settore giovanile e poi Luca Dalmonte coach Fortitudo Bologna vi ricordiamo anche la nostra rassegna stampa di domani che come sapete la potete trovare tutti i giorni alle 7.20 in diretta dal lunedì al sabato quindi non perdetevi l'appuntamento di domani mattina appunto su questa rete e poi domani è venerdì una nuova puntata di Casa Rossini vi attende vi anticipiamo a quelli che saranno gli ospiti di domani infatti domani avremo Dario Andreoli che è vicepresidente del Consiglio Comunale di Pesaro Fabrizio Battistelli che è il presidente dell'ente Olivieri e poi parleremo di tante tematiche assieme al sindaco di Tavuglia Francesca Paolucci quindi vi aspettiamo alle 10 in diretta su Rossini TV e sulla nostra pagina Facebook e prima di chiudere voglio ricordarvi il nostro numero per le segnalazioni che state vedendo in sovraimpressione potete utilizzare l'applicazione di Whatsapp per interagire con noi inviandoci foto, video oppure messaggi di testo grazie come sempre per averci seguito adesso per voi il meteo